Mio figlio rischia di suicidarsi in carcere, lo dice al nostro Tg il Cala Monacese Nino Montalbano che parla del grave stato di salute del figlio di 23 anni sottoposto a detenzione cautelare e per il quale chiede i domiciliari. Al via tra due mesi il processo d'appello a carico di tre persone accusate di furto di maioliche tra Sambuca e Sciacca e in primo grado erano state infitte tre condanne, due a carico di Saccensi e la terza per un soggetto di Salemi. Nessuna scelta è stata ancora fatta sui direttori sanitari e amministrativi, in discrezioni che circolano destituite di fondamento, lo precisa il manager dell'Asp de Grigento Giuseppe Capodieci che aggiunge stiamo valutando. Nuove immagini di Ferdinandea presentate ieri al Comune in una iniziativa di Marevivo con una spedizione subacquea, intanto è stato identificato il relitto dell'aereo di guerra ritrovato lo scorso anno a largo di Sciacca. Teatro torna in scena, questa sera al Comune la rappresentazione dell'Associazione Teatro oltre dal titolo Muratori per la regia di Salvatore Venezia, in scena Franco Bruno, Censi Funaro e Anna Rita Maretta. Tutto pronto per l'undicesima edizione di Azzurro Food Festival in programma Sciacca dal 29 agosto al 1 settembre. Si prevedono degustazioni ma anche momenti di spettacolo con artisti nazionali e locali. Benvenuti al telegiornale di Telemonte Cronio. Mio figlio è in stato di detenzione cautelare ma è molto malato, le sue condizioni sono incompatibili con il carcere, ha già tentato il suicidio. A denunciare il fatto è Antonino Montalbano, un papà disperato di Calamonaci che parla dello stato in cui si trova il figlio 23enne affetto da patologie diverse, compresa una malattia mentale. I familiari hanno chiesto almeno gli arresti domiciliari che però sono stati al momento negati. Della vicenda si è occupato anche il garante dei detenuti di Palermo. Il servizio è di Massimo D'Antoni. Questa vicenda si inquadra in un momento in cui il nostro paese, l'Italia, si sta interrogando su quello che succede nelle carceri perché i suicidi purtroppo stanno aumentando. È vero che lei teme che il suo figlio possa suicidarsi? Mio figlio è già tentato il suicidio e l'ultima volta che l'ho visto mi ha detto papà io non ce la faccio più a resistere a questi dolori atroci perché se lo stanno mangiando mio figlio ha un tumore in testa, l'ipofesi. Mio figlio è come una candela, si sta spegnendo e si sta consumando giorno dopo giorno. Non è che dobbiamo aspettare che muore e poi facciamo scandalo. Parla così oggi al nostro telegiornale Nino Montalbano, papà di un ragazzo di 23 anni che si trova in carcere, tuttora sottoposto ad una detenzione cautelare per una vicenda che lo vede accusato di tentato omicidio. Si tratta di un giovane gravemente ammalato, affetto da diverse patologie a partire dalla sindrome di Cushing che genera diverse anomalie cliniche causandogli tra le altre cose anche una riduzione del tessuto muscolare ed osseo. Quando è stato l'ultima volta che lei ha incontrato suo figlio? Diciamo una settimana fa. In carcere a Sciacca? In carcere a Sciacca, sì. E come vuol dire come l'ha trovato? Guarda, mio figlio era 110 kg di muscoli perché è stato sempre uno sportivo. Cioè, se no sarà 70 kg. Cioè, questa malattia, la sindrome di Cushing, gli sta mangiando tutte le ossa, i muscoli, i porzi gli sono diventati piccolissimi, le mani come un bambino. Altri problemi riguardano questo giovane anche di tipo mentale, essendo affetto anche da psicosi ossessiva grave, tutte patologie che riducono le difese immunitarie del ragazzo e che gli sono state regolarmente diagnosticate da medici e cliniche rinomate, tra cui il Niguarda di Milano. La famiglia, sulla base di questi pareri scientifici, ritiene che la detenzione sia incompatibile con lo stato di salute del ragazzo perché i piani terapeutici, che comprendono anche un'alimentazione specifica in cella, non gli possono essere somministrati. Perché mio figlio ha bisogno di mangiare ogni tre ore e avere una dieta particolare, iperproteica, cosa che non può fare in carcere. Non gli danno le proteine che ha bisogno e non gli danno neanche la cura che lui è stata diagnosticata, che sarebbe Cormeto e 2,50. Non ha difese immunitarie e va incontro a altre malattie. Lui ha una psicosi ossessiva grave, dove gli è stata riconosciuta nel 2018, ha una pensione di invalidità dall'80%, non ha revisione la pensione, vuol dire che questo male non può mai guarire, può solo peggiorare. E di conseguenza la famiglia del giovane contesta il no opposto alla richiesta di concedere al figlio una misura cautelare meno afflittiva come potrebbero essere gli arresti domiciliari. Non è che mio figlio sta fingendo perché si trova in questa situazione e loro lo trattano in carcere come se fosse un detenuto normale. Non tengono conto che il ragazzo è ammalato. Questa vicenda si inserisce nel dibattito in corso sull'escalation di suicidi in carcere. Prima che Asciacca il giovane era rinchiuso al Pagliarelli di Palermo, ad interessarsi della sua vicenda è stato anche il grante dei detenuti Pino Apprendi, che così alla testata giornalistica regionale della Sicilia ha commentato la vicenda. Ho scritto al direttore sanitario per sapere intanto sulle cure che lui stava facendo e poi ho chiesto effettivamente se lui poteva fare la detenzione visto il suo stato di salute. Devo dire che oggi sono passati quasi un mese e non ho ancora ricevuto la risposta. Vengo da sapere che è stato trasferito in quelli Asciacca. Io so per certo che a Asciacca non c'è un reparto di psichiatria. Si può dire che la sua vita in questo momento sia esclusivamente dedicata alla vicenda di suo figlio? Per me è finita. Per me, io so che mio figlio diciamo si scioglie come una candela e da un giorno all'altro per me la vita è finita. A casa mia non c'è più pace. Mia moglie sta impazzendo, stiamo impazzendo tutti. Cioè io, se lei è un genitore, penso che mi potrà capire. Momenti di panico all'interno della stazione di servizio di via Lioni Asciacca dove un'autovettura ha urtato il bombolone contenente il gas per auto. Molto probabilmente non erano stati azionati bene i freni o inserita la marcia. La vettura, senza conducente a bordo, ha percorso alcuni metri senza controllo finendo la sua corsa contro la colonna della distribuzione del gas. Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti immediatamente, deviando il traffico e delimitando la zona. Sul posto anche i vigili del fuoco per accertamenti mirati a verificare che non ci fosse fuga di gas. La colonna del gas, per fortuna, non ha subito danni e il traffico è stato ripristinato. Al via, il prossimo 21 ottobre, il processo di appello a carico di tre imputati coinvolti nell'inchiesta su una serie di furti di maioliche del XIX secolo, messi a segno tra Sambuca di Sicilia e Sciacca. In primo grado, il GUP Stefano Zammuto aveva disposto tre condanne, due anni e otto mesi di reclusione per Vincenzo Di Benedetto, 72 anni, e Marco Gambino, 35 anni, di Sciacca, tre anni e due mesi di reclusione per Giuseppe Mancia, 41 anni, di Salemi. Secondo l'accusa che però ha retto soltanto in parte al vaglio processuale, i cinque avrebbero fatto parte di un'associazione specializzata nei furti di pregiate maioliche per pavimenti prodotte tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento da diverse scuole siciliane di ceramica. L'attività investigativa, diretta dalla Procura della Repubblica di Sciacca, prende le mosse dall'arresto a Sambuca di Sicilia da parte della locale stazione Carabinieri di alcuni appartenenti al gruppo criminale sorpresi nel febbraio del 2022, mentre rubavano da una villa disabitata numerose maioliche e consentiva un'analisi mirata di alcune denunce di eventi simili presentate dai proprietari di diverse abitazioni di vecchia costruzione, per lo più disabitate, ubicate nelle province di Agrigento e Trapani. Rapina ai danni di una tabaccheria nel centro di Agrigento. Ignoti malviventi, tutti con volto travisato da casco e uno armato di pistola, hanno fatto irruzione ieri pomeriggio nell'attività commerciale in via Picone e dopo aver minacciato il personale si sarebbero fatti consegnare il denaro presente in cassa. Poi la fuga a bordo di uno scooter. Secondo una prima stima il bottino ammonterebbe a circa 300 euro. Sul posto, lanciato l'allarme, sono intervenuti i poliziotti delle volanti della questura di Agrigento. Al vaglio degli investigatori, le immagini delle telecamere di videosorveglianza che insistono nella zona. Blitz dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro all'interno di un cantiere allestito in un fondo agricolo in territorio di Favara. Riscontrate diverse irregolarità. Dei cinque operai presenti, tre non erano in regola e uno di loro non aveva completato gli studi della scuola dell'obbligo. L'attività è stata immediatamente sospesa e la titolare, una trentenne favarese, è stata denunciata a piede libero per omessa sorveglianza sanitaria, mancata formazione del personale e mancata installazione del quadro elettrico. Un'altra donna, una sessantenne che è risultata essere la committente dei lavori, è stata anche lei denunciata. Per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, l'ammontare complessivo è di circa 70 mila euro. Un festino in una villetta a San Leone con musica, tutto volume, alcol e anche cocaina è stato interrotto dalle forze dell'ordine alle prime luci del mattino. Polizia e carabinieri sono intervenuti sul posto in seguito alle segnalazioni dei vicini che non riuscivano a chiudere occhio nel bel mezzo della notte. Le forze dell'ordine sono così entrate nella villetta di proprietà di un imprenditore agrigentino. Almeno una ventina i giovani che stavano partecipando al party tra cibo, alcol e droga. Uno dei ragazzi è stato sorpreso a sniffare cocaina in auto e per questo motivo è stato segnalato alla prefettura in qualità di assuntore di stupefacenti. Al vaglio anche la posizione del figlio del proprietario della villa che potrebbe dover rispondere di disturbo della quiete pubblica. Cambiamo argomento. Nessuna scelta sui nomi dei nuovi direttori sanitario ed amministrativo è già stata compiuta presso l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Lo precisa il direttore generale dell'ASP di Agrigento a proposito di indiscrezioni che circolerebbero da giorni sui possibili nomi dati come certi, come per esempio quello del dottor Ennio Ciotta, già direttore sanitario del presidio di Sciacca come possibile nuovo direttore sanitario aziendale. Vorrei precisare, dice Capodieci, che ogni iniziativa orientata verso nomi di vari professionisti già individuati risulta ad oggi destituita di ogni fondamento. In atto la direzione generale è impegnata in un'attenta valutazione dei curricula dei possibili candidati insieme a una ricognizione preliminare sull'eventuale disponibilità ad assumere gli incarichi che avranno l'obiettivo di contribuire alla crescita della qualità dell'offerta sanitaria in provincia di Agrigento. Al termine di questa operazione di discernimento, condotta in piena autonomia, precisa a Capodieci, sarà a mia cura definire le assegnazioni e individuare i nominativi nel categorico rispetto dei tempi fissati dall'assessorato regionale alla salute. Ricordiamo che entro il 2 settembre i manager delle ASP dovrebbero nominare direttori amministrativi e sanitari. Entro l'anno partirà il rifacimento di tutta la rete idrica di Agrigento. Abbiamo già finanziato l'opera attraverso l'accordo di coesione, ma per accelerare i tempi il mio governo provvederà ad autorizzare un'anticipazione delle risorse e partire subito con i lavori. Lo ha detto il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, intervistato dalla TGR Sicilia. Io, ha poi aggiunto il governatore, sto con il nostro capo della protezione civile, Salvo Cocina, che correttamente sta eseguendo il suo mandato. La legge individua nei sindaci infatti i primi responsabili di protezione civile sul territorio e sono certo che i primi cittadini non si tireranno indietro. Sono loro, aggiunge Schifani, che devono individuare i pozzi, anche se poi magari sarà la regione a eseguire i lavori. Per questo motivo non ho condiviso la posizione del sindaco di Agrigento. Per la sede provinciale di Agrigento del Codacons sono da considerarsi illegittime e di conseguenza nulle le deliberazioni dell'ATI, Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento. L'articolo 6 dello Statuto dell'ATI, scrive il Codacons, stabilisce chiaramente che solo i sindaci o i loro delegati diretti, quali assessori, consiglieri comunali, funzionari o esperti nominati dal sindaco, possono esercitare il diritto di voto. Tuttavia il Codacons ha rilevato che in diverse occasioni alcuni sindaci avrebbero delegato il proprio voto ad altri sindaci o assessori di comuni differenti, in palese violazione dello Statuto. L'Associazione a difesa dei consumatori richiama dunque con urgenza l'attenzione su queste irregolarità, sottolineando come tali pratiche non solo compromettono la legittimità delle decisioni dell'ATI, ma danneggiano profondamente la fiducia dei cittadini nella gestione della cosa pubblica. L'Associazione insiste sulla necessità di un'azione immediata per correggere tali violazioni, garantendo il rispetto delle normative vigenti e la trasparenza nei processi decisionali. Per il Codacons, infine, anche l'elezione del nuovo Presidente dell'ATI e tutte le deliberazioni dell'Assemblea risultano illegittime e necessitano di un immediato intervento di sanatoria. Voltiamo pagina, è stato identificato il relitto dell'aereo militare, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, ritrovato nei fondali a Largo di Sciacca. Si tratta di un velivolo dell'aeronautica statunitense. Vediamo il servizio. Dopo una serie di indagini è stato identificato il relitto di un aereo ritrovato in mare nel 2023 a Largo di Sciacca. Gli accertamenti, portati avanti con la supervisione scientifica della soprintendenza del mare e dell'assessorato regionale dei beni culturali, hanno permesso di stabilire con certezza che si tratta di un Cortes C-46, commando, affondato durante la Seconda Guerra Mondiale. Il ritrovamento e l'identificazione del relitto del mare di Sciacca, dice l'assessore ai beni culturali Francesco Paolo Scarpinato, è la dimostrazione del prezioso lavoro di ricerca che la soprintendenza del mare svolge con tutti i soggetti coinvolti nel campo dell'archeologia subacquea. La regione siciliana, aggiunge l'assessore, è costantemente impegnata per scoprire e mettere insieme le tante tracce della storia recente di quella antica che la nostra isola ancora custodisce. Il relitto dell'aereo era stato scoperto nel marzo del 2023 da un team di ricerca del Dipartimento Scienza della Terra e del Mare dell'Università di Palermo, in collaborazione con Ispra e la presenza era stata confermata da una successiva immersione esplorativa. Nell'immediato non era stato possibile accertare il modello dell'aereo a causa della scarsa visibilità dovuta alla vicinanza delle foci, dei fiumi, verdure e platani e all'intensa attività di pesca strascico nella zona. Proprio questo tipo di attività ha causato danni al relitto elementi dell'aereo come l'elica del motore sinistro, il piano verticale di coda e la parte superiore della fusoliera risultano infatti rimosso danneggiate a causa delle reti. Le indagini per identificare l'aereo dunque si sono basate sull'individuazione di alcuni particolari costruttivi dei motori, sulla presenza dell'elica quadripala e sull'ispezione degli interni della fusoliera. Questi elementi si sono aggiunti ad una testimonianza, quella di un pescatore raccolto in precedenza che tra il 1943 e il 1944 aveva soccorso quattro aviatori statunitensi dopo che il loro aereo era precipitato in mare. Un racconto che coincideva anche con la circostanza che il pilota fosse sopravvissuto. Tutti gli elementi raccolti hanno permesso di ricondurre il relitto ad un modello C-46 che era stato consegnato nel maggio del 1944 alle forze aeree degli Stati Uniti e il 21 luglio successivo fu costretto ad un ammaraggio a sud di Sciacca a causa dell'esaurimento del carburante. Questo relitto è l'unico perso nel Mediterraneo centrale. I C-46 erano infatti ordinariamente impegnati nei teatri di guerra asiatici e con minore frequenza in Nord Africa e in Europa. Si sono svolti lunedì nella chiesa del Carmi nei funerali di Giuseppe Latorre, morto a 89 anni. Sindaco di Sciacca a più riprese tra gli anni 60 e il 1980, la sua è stata una figura molto apprezzata per stile equilibrio e visione politica. Alla celebrazione ufficiata dall'arciprete Don Giuseppe Marciante, l'attuale amministrazione ha reso onore al dottor Latorre con la presenza del gonfalone del Comune di Sciacca e con il primo cittadino Fabio Termine. Un uomo che si è distinto per correttezza, rettitudine morale e impegno onesto nelle scelte compiute nei confronti della comunità. Sono state queste le parole di padre Marciante nel parlare del profilo politico di Latorre. Ieri sera Sciacca Marevivo Sicilia ha trasportato gli appassionati nei fondali che animano l'isola Ferdinandea. Una immersione all'asciutto in 3D resa possibile grazie a uno speciale Oculus e grazie alle immagini di una interessante spedizione subacquea coordinata da Riccardo Cingillo e Santo Tirnetta. Una conferenza ha illustrato i dati scientifici registrati nell'ambito del progetto voluto dall'Associazione Ambientalista preseduta da Fabio Galluzzo. Vediamo. Il mistero è il fascino dell'isola Ferdinandea in un progetto e in una spedizione di successo coordinata da Marevivo Sicilia. Se ne è parlato ieri sera alla Sala Blasco del Comune di Sciacca e poi all'atrio superiore dove i presenti hanno potuto effettuare un'immersione all'asciutto in 3D attorno al banco vulcanico di Graham attraverso uno speciale Oculus. È stata veramente un'attività diversa dalle altre da quella che si fa solitamente. È stata molto interessante soprattutto la parte dove si scende. Molto bella perché queste cose non vengono dette da nessuna parte. Noi non siamo del territorio e scoprire queste bellezze della Sicilia. È una cosa bella che ci lascia sempre senza parole. Di dove siete? A Napoli. Un viaggio nella biodiversità marina di Capo San Marco. Una spedizione che ha consentito di registrare interessanti dati scientifici analizzati e illustrati dai tanti relatori che hanno animato la manifestazione di ieri sera. Il progetto Ferdinandea l'isola che c'è è un progetto anche questo di educazione ambientale perché vogliamo portare a conoscenza del territorio soprattutto dei giovani di Sciacca di un sito particolarmente importante che è quello dell'isola Ferdinandea nel banco di Graham in pieno stretto di Sicilia perché siamo sempre convinti del fatto che la conoscenza porta alla tutela del territorio. Far conoscere l'isola Ferdinandea non era una cosa molto semplice, anzi veramente molto difficile. Però grazie a degli amici appassionati, subacquei, documentaristi, storici abbiamo avuto la possibilità di fare delle riprese con una tecnologia particolare che permetterà a chiunque di poter fare un'immersione virtuale. Questo è sicuramente un progetto ambizioso, un progetto veramente bello che ci permette di riappreparci di qualcosa che è nostro ma che non è conosciuto, ovvero i fondali dell'isola Ferdinandea. L'isola Ferdinandea fa parte della storia di Sciacca e anche intimamente legata alla storia del corallo e sicuramente di scoprirla in queste vesti significa dare una nuova vita, dare una nuova linfa vitale anche dal punto di vista turistico all'intera città. L'importanza dei fondali dell'isola Ferdinandea, l'isola che non c'è, oggi la chiameremo l'isola che c'è, è fondamentale per un discorso particolare che è quello di una zona vulcanica, quindi stiamo parlando di un evento che potrebbe, chi lo sa, anche ritornare a essere attuale quanto prima, questo non lo possiamo sapere. Ma quello che a me preme di più è la bellezza che si è creato lì sotto, quindi si è creato un ambiente unico, particolare, forse unico nel suo genere perché appunto è stato colonizzato da particolari esseri che vivono soltanto in questo tipo di sabbia lavica come il sargasso che crea delle foreste molto particolari e che tende appunto a dare più un'atmosfera particolare, più buia che rende queste immersioni sempre molto affascinanti. Abbiamo utilizzato sei camere da presa, qualche anno fa abbiamo avuto questa idea, quindi l'abbiamo portata avanti, abbiamo costruito una custodia per queste sei camere da presa e l'abbiamo portata sott'acqua e da lì ci siamo resi conto che puoi sviluppare queste immagini immersive in 3D 360, perché? Perché voi pensate che sono sei ottiche e quindi praticamente queste ottiche si accavallano, quindi oltre a fare il 360 gradi e quindi ti sembra di stare sott'acqua e in più, dato che le ottiche si accavallano tutte e sei, ovviamente ti fanno pure la profondità di campo e quindi ti fanno le immagini in 3D, quindi un 360 3D immersivo per far rendere conto alla gente e toccare con mano la biodiversità sott'acqua dell'isola Ferdinandea. L'iniziativa di oggi si inquadra in quelle che sono le attività di educazione ambientale di Marevivo. Lo spunto ce l'ha dato il progetto Corallo, è un progetto del programma europeo Interreg che ha praticamente effettuato con questa tecnologia avanzata in 3D le riprese di alcune aree marine protette siciliane. Siccome la bellezza dell'isola Ferdinandea non ha niente di meno rispetto a delle aree protette e auspichiamo che proprio dalla visione di queste bellissime immagini possa anche iniziarsi un percorso per proteggere questa parte del territorio. Diciamo che uniremo alle proposte didattiche di Marevivo, di educazione ambientale che promuoveremo presso le scuole, non solo di questo territorio ma anche a livello nazionale, proporremo la visione dell'isola Ferdinandea. E si è conclusa ieri sera alla Badia Grande la rassegna dedicata a Pietro Germi nel cinquantenario dalla morte. Dopo la presentazione del libro di Sebastiano Gesù sulla produzione cinematografica siciliana di Germi, in Arena Giardino è stato proiettato il film Il Cammino della Speranza. La manifestazione avrà un appendice a fine settembre. Vediamo. Erano stremati, ma il loro passo era vivace. Davanti a loro più non c'era l'aspra, paurosa montagna, ma un facile aperto declivio, dove la loro speranza e le loro illusioni scivolavano dolcemente. Con la proiezione nell'Arena Giardino della multisala Badia Grande del Cammino della Speranza, film gerato a Favara nel 1950 che tratta del tema drammatico dell'emigrazione, si è conclusa ieri sera alla rassegna organizzata da Sino Caracappa e patrocinata dal comune di Sciacca con la collaborazione della libreria Ubic dedicata alla figura di Pietro Germi nel cinquantesimo anniversario della sua morte. La serata è stata introdotta dalla interessante presentazione del libro dal titolo Pietro Germi, il siciliano, del 2014, scritto dal catanese Sebastiano Gesù, critico cinematografico e storico del cinema italiano morto nel 2018. Un libro che, oltre alla presentazione del regista Pasquale Scimeca, contiene anche una prefazione firmata da Sino Caracappa. A parlarne sono stati Ivan Scinardo, direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo e il cineasta Carmelo Franco, di professione avvocato. Ad intervistare due ospite è stato Raimondo Moncada. Conservo gelosamente questa copia che lui mi ha autografato assieme alla dedica che ha fatto a sua moglie Rosa e a sua figlia Chiara e quindi questo per me è motivo davvero di grande emozione. Poi ricordare Sebastiano, docente di storia del cinema al Centro Sperimentale di Cinematografia, ha significato per me anche immergermi nel meraviglioso mondo del cinema siciliano, dei suoi registi di cui Germi ne è stato assoluto protagonista e mi imbucavo nelle sue lezioni perché erano veramente dei viaggi affascinanti. Ricordo ancora dei capolavori di testimonianze su Lucchino Visconti, sulla Terra Trema e poi provate a immaginare, io ho tentato più volte a chiedere a Rosa, alla moglie, di trasferire al Centro Sperimentale e il suo immenso patrimonio fatto di cartoline, locandine, sceneggiature. La sua casa di Santa Venerina in provincia di Catania potrebbe davvero diventare un museo domani mattina. Credo termi che è stato un grande regista italiano e non solo regista perché era un cineasta completo, è stato anche attore, produttore, sceneggiatore, quindi ha ricoperto tutti i ruoli all'interno del mondo del cinema e in questo lungo percorso cinematografico durante la sua breve vita perché sono oggi 50 anni e si ricordano la morte di Pietro Germi. E' morto a 60 anni. E' morto a 60 anni, esatto. E' quando ancora avrebbe potuto regalarci tanti bellissimi. La serata ha poi visto anche la proiezione dei fuoriscena di Sedotta e Abbandonata di Vincenzo Raso. Alla rassegna Pietro Germi ci sarà un appendice, programmata per il prossimo 28 settembre con un convegno del titolo Il cinema di Pietro Germi e la Sicilia, su cui abbiamo chiesto un'anticipazione sino Caracappa. Di la verità lo stiamo ancora costruendo perché puntiamo ad avere delle eminenti personalità. Emiliano Morreale già ci ha dato la sua disponibilità. Ricordiamo che è quello che ha organizzato le manifestazioni per il centenario della nascita di Pietro Germi, quindi avremo delle personalità anche del mondo accademico di tutto rispetto. E questa sera a Sciacca, nell'atrio inferiore del Comune, torna in scena la compagnia Teatro Oltre che ripresenterà la commedia dal titolo Muratori con la regia di Salvatore Venezia. In scena ci saranno Franco Bruno con gli attori Censi Funaro e Anna Rita Maretta. Le musiche originali sono di Salvatore Crapanzano. Il testo, scritto in dialetto romano dall'autore, è stato volutamente lasciato con quel suono originario, permettendo però ai personaggi di evolverlo in una variante linguistica personale. Ne parliamo in questo servizio. Franco Bruno, questa sera la compagnia teatrale di Sciacca Teatro Oltre riporta in scena Muratori. Di che cosa si tratta? Sì, ritorno in scena perché la prima di quest'opera è andata il 7-8 giugno a chiusura della segna teatrale che abbiamo realizzato alla multisala Badia Grande, teatro in Badia con la collaborazione, ricordiamolo perché è giusto, di Sino Caracappa e di tutte le forze la multisala. È un'opera di Edoardo Erba, un'opera di un autore contemporaneo, anche molto rappresentato negli ultimi decenni, un'opera di successo, però che in Sicilia si è vista poco, tranne credo forse un'apparizione alla sala Streller del Teatro Biondo di Palermo credo un paio di anni fa. Si tratta di Muratori, il titolo è esplicito quanto mai, sono due Muratori un po' in disarmo, due ciofeiche come direbbero a Roma, uno che si sente più furbo, l'altro un po' più ingenuo, più credulone e devono fare un lavoro, devono fare un lavoro di notte perché è un lavoro, guarda caso, abusivo. Solo il loro che lo fanno è un teatro e allora in questo incontro casuale, loro non sono dei frequentatori del teatro, però incontrano in realtà, realmente il teatro, fisicamente e ne vengono avvolti, coinvolti in alcune esperienze anche al limite del naturale, quasi sovrannaturale, che potrebbe cambiare le loro vite. È una commedia, per cui già i due personaggi sono una classica coppia dove c'è la spalla e il comico, anzi diciamo che in questo caso ci interscambiamo i ruoli nei personaggi di Fiore e Germano. Poi c'è un terzo personaggio che è Giulia, che è l'abitante del teatro, ma non voglio dire altro perché se no poi spoileriamo, è lei che crea quelle situazioni un po' strane in cui poi si ritroveranno nel doversi confrontare con loro stessi, con la loro memoria, i due muratori Fiore e Germano. Diciamo soltanto, riveliamo soltanto chi sono gli attori in scena? Assolutamente, infatti speravo che me lo chiedessi, lo dico io, no, me lo chiederà. Come vedi sono un po' allenato, c'è un tono romanesco che non mi appartiene, però perché l'opera non l'abbiamo detto in dialetto romanesco. Edoardo Erba l'ha scritto così, ci siamo pure chiesti se era il caso di tradurlo e ci siamo imbarcati in questa avventura, devo dire che all'uscita di giugno qualche romano ex abitante di Roma ci ha detto beh siete credibili, allora stiamo continuando. Gli interpreti, io sono Germano, uno dei due muratori, quello c'è un po' più credulone, poi c'è Censi Funaro che è Fiore, che è un po' il capo squadra, quello che dirige tutta l'attività e poi Giulia, il personaggio scomodo, quella che fa l'intrusa nella vita dei muratori è Anna Rita Maretta. Ricordiamo la regia, anche quello che ha proposto la realizzazione dell'opera, Salvatore Venezia, i costumi sono di Marina Marchica, partecipe non sulla scena ma nell'organizzazione, la gestione della biglietteria che non è cosa semplice, Maria Grazia Catania. Ricordiamo a tutti l'appuntamento? L'appuntamento è per stasera alle ore 21, muratori presso l'atrio inferiore di Sciacca. Un'ultimissima cosa, perché avete scelto proprio questa commedia? Beh, Teatro Oltre da qualche anno ha una strada, ha scelto una strada che ancora intendiamo perseguire, quella del teatro civile con le tante rappresentazioni di Sono le storie, non so la Sciacca ma un po' in tutta Italia, lo dico, lo si sa e intendiamo continuare su questa strada. Però era da tempo che noi nel nostro repertore, negli anni passati, forse l'ultima commedia che abbiamo realizzato era nel 2016, poi c'è stato il Covid che ci ha rallentato, frenati fortemente, quest'anno abbiamo deciso di tornare alla commedia, infatti sono dei momenti anche abbastanza salaci, divertenti, di un autore di teatro contemporaneo e poi anche un'altra nostra idea che intendiamo sempre perseguire. Germano e romanesco come ci saluterebbe? Oh, oh, se vediamo stasera, ma riccomanno, eh, alle 21, venite puntuali, eh, che poi se non vi fanno entrare. Ciao! E appuntamento con il teatro anche domani sera a Sciacca, presso l'atrio inferiore del Palazzo Municipale, con inizio alle 21 e 15. In prima assoluta, Antonio Ribisi-Laspina, Martina Gallione e Francesco Grisafi porteranno in scena due atti unici brillanti di Anton Chekhov, Una domanda di matrimonio e Il tabacco fa male. Per la regia di Antonio Ribisi-Laspina, che al nostro telegiornale invita il pubblico saccense ad assistere allo spettacolo. Ascoltiamo. Ridiamo con Chekhov, domani sera presso l'atrio inferiore del Palazzo Municipale di Sciacca, con inizio alle ore 21 e 15. Si tratta della prima assoluta, dei due atti unici dello scrittore drammaturgo russo, Una domanda di matrimonio e Il tabacco fa male, per la regia di Antonio Ribisi-Laspina, il suggeritore battaglia nel film La stranezza, in scena insieme a Martina Gallione e Francesco Grisafi. Il nostro sta diventando un appuntamento costante. Già l'estate scorsa siamo stati lì a Sciacca con Pirandello, quella carrellata su Pirandello, culminata con l'atto unico La Morsa. Un mese fa, sempre di Pirandello, vi abbiamo proposto il cecce, stavolta cambiamo un po' e ci dedichiamo a Chekhov. Vedete qui alla mia destra la locandina. Proporremo due atti unici, fa male il tabacco e la domanda di matrimonio. E soprattutto ve li proporremo in prima nazionale, poi gireremo un po' dappertutto, però in prima nazionale saremo da voi. Peraltro è una sfida interessante perché voi di Sciacca siete un pubblico esigente. Finora non vi abbiamo deluso, speriamo di non farlo neanche stavolta. Quindi vi aspettiamo giovedì 22 alle 21 e 15 all'Atrio Comunale. Io, Francesco Grisafi e Martina Gallione. Ed ora parliamo di Azzurro Food Festival in programma Sciacca dal 29 agosto al 1 settembre. C'è l'annuncio da parte degli organizzatori del primo ospite musicale. Si tratta di Petit, il cantante rivelazione del 2024 che si esibirà sul palco di Piazza Angelo Scandaliato giovedì 29 agosto in un spettacolo gratuito, così come saranno gratuiti tutti gli spettacoli dell'undicesima edizione di Azzurro Food. Ne parliamo nel servizio. Fervono i preparativi per l'undicesima edizione di Azzurro Food Festival, l'evento dedicato agli amanti del mare, dello street food, dello spettacolo e dell'arte, organizzato da Futuris, Record Eventi e Proloco Sciacca Terme con il patrocinio del Comune della Regione Siciliana e in collaborazione con Marevivo Sicilia. Ricco è il programma delle quattro giornate in cui ci saranno momenti culturali e gastronomici, degustazioni, talk show, show cooking, expo village, musica e spettacoli. Sarà il cantante Petit il protagonista dello spettacolo musicale che si terrà il 29 agosto sul palco di Piazza Angelo Scandaliato con ingresso gratuito. Petit è il cantante rivelazione del 2024 dopo essersi classificato secondo al talent show Amici di Maria De Filippi ha iniziato a scalare le classifiche con le sue hit Mamma Mi, Tornerai e Guaio che sono trasmesse su tutte le radio. Tutti gli spettacoli di Azzurro Food Festival si terranno sul palco di Piazza Scandaliato e saranno tutti gratuiti ed è proprio questa una delle tante novità della undicesima edizione del festival in programma nel centro storico di Sciacca dal 29 agosto al primo settembre. Altra novità sarà la nuovissima area dedicata allo street food che per quattro serate diventerà il più grande ristorante a cielo aperto della Sicilia nel quale si potranno assaporare tantissime delizie sia di cucina siciliana che internazionale, piatti gourmet realizzati con il pesce, sfiziosi street food siciliani, l'irresistibile mondo dei fritti e l'immancabile couscous di pesce, la paella ma anche le sezioni dedicate a chi non mangia il pesce, le proposte vegane, una sezione a base di carne e la bontà dei dolci siciliani. Spazio anche all'educazione ambientale con un laboratorio a cura di Mare Vivo Sicilia in un'area interamente dedicata ai bambini. Ci saranno infine tante attività di valorizzazione artistica e culturale del territorio che riguarderanno la ceramica e il corallo di Sciacca e che saranno presentate nei prossimi giorni. Cultura, ieri e oggi a Caltabellotta spazio al Dedalo Festival, due serate di spettacoli e musica coordinate dal direttore artistico Ezio Noto e patrocinate dal comune guidato dal sindaco Biagio Marciante. Presenti alla manifestazione la moglie e i figli di Roberto Sottile, docente universitario prematuramente scomparso, legatissimo all'evento e alla promozione del dialetto siciliano e a cui è stato dedicato un premio. Vediamo. Ha preso il via da Caltabellotta il volo del Dedalo Festival, due giornate all'insegna della cultura, dell'arte, della musica e della letteratura. Una edizione che quest'anno ruota attorno al concetto polisemico di fame. Dopo i saluti istituzionali e degli organizzatori è stato il docente universitario Danilo Serra ad aprire la Kermess, mentre a seguire è stato presentato il libro La scuola al museo, proposto dall'istituto comprensivo Roncalli di Burgio, una guida turistica nata dall'esperienza diretta degli studenti. A presenziare il dirigente scolastico Vito Ferrantelli, la professoressa Pina Pirrello e alcuni studenti. Un programma ricco e variegato che proseguirà anche questa sera. Dedalo Festival che ha voluto assegnare un premio alla memoria dell'indimenticato docente universitario Roberto Sottile, con tributi consegnati a Cesare Basile, Alessio Bondi e Vincenzo Pirrotta. Presenti alla manifestazione la moglie e i figli di Roberto Sottile. Una grande iniziativa della quale ringrazio l'amministrazione di Caltabellotta, e Zio Noto e tutti gli amici del Dedalo Festival perché è stata un'idea straordinaria, è estremamente doloroso, è nostalgico per noi, per me, per mio figlio, tornare qui senza di lui, però stasera dobbiamo vederla come una festa perché il premio è per chi stasera lo riceve, ma è anche un premio a mio marito per il lavoro che ha fatto, per quello che ha seminato e per quello che per lui ha sempre rappresentato il Dedalo, perché noi siamo stati assidui frequentatori del Dedalo dal 2012 e l'entusiasmo da parte sua nella partecipazione a questa iniziativa era massima. Quindi è una idea straordinaria quella che c'è stata quest'anno di assegnare questo premio e siamo felici di essere qui e di ricordare Roberto anche in questa occasione, in questa maniera. Suo marito era innamorato del Dedalo Festival, del dialetto siciliano e anche di Caltabellotta. Sì, perché mio marito amava il dialetto, amava studiare il territorio, conoscere il territorio, farlo conoscere attraverso tutte le sue manifestazioni, prima fra tutta la lingua, e il Dedalo è stato un'occasione per farlo, non soltanto attraverso la musica ma attraverso tante altre iniziative correlate al Dedalo e dunque il legame era estremamente forte col Dedalo e con Caltabellotta ovviamente. Ci siamo posti la domanda appunto se ci fosse realmente questa fame, anche perché guardandosi intorno non facciamo altro che vedere feste, festini, bagordi, senza voler criticare nessuno, però ci chiedevamo se a questa fame proprio di cibo, a questo piacere immediato che il cibo ci dà, perché comunque è spesso consumato in contesti conviviali e molto leggeri, si accompagnasse anche una fame che è più profonda, che nascesse proprio dal desiderio di conoscere, di scoprire e quindi di saziare anche la mente e non solo il corpo. C'è, questa fame c'è, lo dimostrano tutti gli artisti che sono presenti questa sera e saranno presenti domani. Quest'anno, questa 17esima edizione si arricchisce di un premio molto importante, che è il premio dedicato al professore prematuramente scomparso Roberto Sottile. Chi meglio di lui, insomma, ci ha fatto capire e continua a farci capire l'importanza del dialetto. Per questo, appunto, sono stati selezionati tre artisti che hanno posto alla base del loro linguaggio artistico, della loro espressione, proprio l'utilizzo del dialetto siciliano. È un appuntamento ormai fisso, a cui tutti siamo legati, che aspettiamo e anche se quest'anno, rispetto alle edizioni precedenti, la manifestazione si consumerà in due giornate, insomma, non ci lascerà delusi. È ricca di appuntamenti. Menzione speciale e attestato oro di riconoscimento per il Rotary Club di Menfi, Belice Carboi, per aver raggiunto obiettivi concreti per il miglioramento delle comunità, dei territori e per aver aiutato i Rotary a creare speranza nel mondo. A conferire l'attestato che è stato consegnato ieri alla presidente Margherita Cacioppo a Isola delle Femmine, è stato il presidente del Rotary International per l'anno 2023-2024, Gordon McKinnelly. Gli attestati sono un riconoscimento che premiano l'impegno svolto dal club nel corso dell'anno rotariano. Un anno caratterizzato da tante iniziative a sfondo sociale, attraverso le quali, spiega proprio Margherita Cacioppo, i propositi da sempre espressi dal club si sono tradotti in nazioni concrete per contribuire ai grandi progetti del Rotary International, tra cui il progetto di diversità, equità, inclusione, nonché numerose attività di service, cioè iniziative ispirate dalle necessità e dai bisogni del territorio. Progetto tartarughe del WWF, nate centinaia di caretta caretta lungo le coste agrigentine, è successo a Licata, a Realmonte e a Menfi, mentre nel territorio tra Torre Salsa, Siculiana e Montallegro si attendono le schiuse da un giorno all'altro. Sono tutti nidi che sono stati monitorati con grande attenzione dai volontari del WWF Sicilia, area mediterranea, ma anche da tanti cittadini. Il servizio. È arrivato il tempo delle schiuse e della nascita di tantissime tartarughine lungo le coste agrigentine, uscite da sotto la sabbia tutte insieme per raggiungere il mare, la vita e la libertà. È successo a Licata, dove i volontari del WWF hanno seguito con attenzione i due nidi, quello di Foce Gallina e quello del Pisciotto, con almeno 150 nascite, e a Realmonte, dove hanno raggiunto il mare, ben 117 tartarughine. Nel territorio di competenza della riserva WWF di Torre Salsa, tra Realmonte, Siculiana e Montallegro, con almeno sei nidi in riserva e altri due nella località di Giallonardo, si attendono le schiuse da un giorno all'altro. Soltanto era Cleamino, a Ribera e Sciacca sono rimaste quest'anno senza nidi, mentre il sito di nidificazione di tartaruga marina, scoperto a giugno lungo la spiaggia di Menfi, ha prodotto quasi 100 tartarughine, anche qui sotto la guida attenta dei volontari, non solo del WWF, ma anche semplici cittadini e soci dei club service. Volontari di Menfi che hanno mostrato ancora una volta la maturità di questa comunità nella tutela e salvaguardia dell'ambiente e della sua bellezza. Il progetto tartarughe del WWF, autorizzato dal Ministero dell'Ambiente, continua dunque a dare i suoi frutti, portato avanti con passione ed entusiasmo da tanti volontari. E adesso la rubrica è il libro del giorno. A giugno Montepepe si prepara all'arrivo dell'estate. Che camurria! Da due anni ormai nel piccolo borgo immerso tra le montagne siciliane si attendono orde di turisti curiosi di assaggiare gli arancini più famosi dell'isola e non solo. E conoscere Rosa, Nonziatina, Maria, Giuseppe e Sarina, le signore di Montepepe, proprietarie dell'ormai noto Regno degli Arancini. Fra amori finiti, nuove relazioni che stanno per cominciare, partenze, arrivi, delusioni, speranze nel cuore, c'è una novità che le rende elettrizzate e preoccupate allo stesso tempo. Luciano Bellini, ex direttore di un albergo poco distante da Montepepe, chiamato a Parigi a dirigere un hotel a 5 stelle, ha invitato le signore di Montepepe nella capitale. Il loro compito è incantare i clienti più ricchi ed esigenti dell'albergo con una cena sontuosa a base dei profumi, dei colori e dei sapori dei piatti siciliani. E Parigi è il luogo adatto per sognare, circondati dalla bellezza e dall'eleganza e, perché no, imbattersi anche in un nuovo amore, specialmente per chi ormai non ci crede più. Una commedia brillante fra la Sicilia profonda e la ville Lumière. Granita e baguette, una notte d'amore a Parigi di sapore di Sicilia. Le signore di Montepepe. Di catena Fiorello Galeano. Edito Giunti. Ieri sera Sciacca è andata in scena la Notte delle Stelle. L'associazione sportiva Il Discobolo ha dato vita ad una manifestazione celebrativa in cui sport e cultura si sono intrecciati in un binomio di grande impatto. Il servizio è di Tony Fisco. Il suggestivo atrio inferiore del Palazzo dei Gesuiti di Sciacca ha ospitato ieri sera un evento che ha celebrato lo sport, la cultura e alcuni dei suoi protagonisti. La Notte delle Stelle, organizzata dall'associazione Discobolo di Sciacca, guidata da Pippo Simone Vullo, ha rappresentato la quindicesima edizione del trofeo Città di Sciacca. In passato il trofeo è sempre stato caratterizzato dalla formula Aerobic Competition che ha portato in città i protagonisti della ginnastica mondiale, un format di grande effetto e successo che tornerà il prossimo anno. Ieri sera invece la Notte delle Stelle ha proposto davanti ad un pubblico interessato e coinvolto la premiazione degli atleti dell'associazione Discobolo che si sono distinti nelle loro specialità. Nell'ambito della manifestazione anche la consegna del premio Panatron Club Sciacca Derme all'atleta di Sciacca che nel 2023 si è particolarmente distinto. E la premiazione di altre società sportive di Sciacca che si occupano di judo e volley. Ma non sono mancati momenti di danza e recitazione, mentre le riflessioni sul mondo dello sport sono state affidate a rappresentanti della Federazione Nazionale Ginnastica e del CONI. Franco Musso, consigliere della Federazione Nazionale Italiana di Ginnastica, reduce dalle Olimpiadi di Parigi, qui a Sciacca per partecipare a questa iniziativa della Discobolo. Sì, sì, io ringrazio il Discobolo per avermi invitato. Sono stato a Parigi come spettatore quando la squadra era formata dalla Nazionale, dal nostro rappresentante ufficiale, era presente certamente all'Olimpiadi di Parigi. Una manifestazione eccezionale, come sempre, le Olimpiadi. Per la ginnastica una manifestazione ancora più eccezionale perché abbiamo avuto risultati che per quasi 100 anni non avevamo. Vediamo anche la squadra femminile che ha preso la medaglia dopo 96 anni, ma anche se non ha preso medaglia la partecipazione alle finali della maschile che sono classificati i sesti oltretutto dopo 39 anni, per cui poi le medaglie ne abbiamo presi 5. La sua presenza qui a Sciacca in qualche modo testimonia la vicinanza della Federazione anche a questa associazione che tanto si è spesa nel tempo in questo settore. Certamente sì, io ho lasciato tutto per essere qua, ci mancherebbe altro. Il Descopolo è un punto di riferimento nostro della zona di Sciacca e d'intorni. Poi c'è un impegno da parte di Pippo Vullo, di Marinella Riggio, che è eccezionale, sempre presenti, partecipa a tutte le gare. Ha un buon livello. Ora abbiamo anche, e siamo felicissimi, una ragazza in Nazionale Juno che parteciperà ai mondiali al prossimo fine di settembre. E questo è un lavoro eccezionale, un lavoro che, poi lo dirò anche dopo, è un lavoro che è di squadra. E come squadra non intendo le atlete. Io come squadra intendo la federazione prima di tutto, che è la parte organizzatrice, ma poi intendo le atlete, ma intendo principalmente i genitori, intendo i tecnici, intendo la società. Quando tutti questi elementi insieme lavorano come stiamo lavorando, certamente i risultati verranno a qualsiasi livello. Certamente non tutti potranno ne fare in Nazionale, ma la ginnastica la possono fare tutti. E nell'ambito della Notte delle Stelle è stato assegnato ad Alessia Friscia, atleta paralimpica di 19 anni, tesserata con la Gatocle, il premio Panatron Club Chacaterme 2023. Alessia Friscia nel 2023 ha stabilito il primato nazionale nei 100 metri piani nella categoria paralimpica T47 e quello sulla distanza dei 200 metri. Nel salto in lungo vanta inoltre la seconda migliore prestazione. Già nel Giro della Nazionale ha partecipato a numerosi raduni azzurri in preparazione ai giochi paralimpici di Parigi 2024 che inizieranno il prossimo 28 agosto, ma l'attesa convocazione alla fine non è arrivata. Puntiamo adesso senza mezzi termini ai giochi del 2028 a Los Angeles, ha commentato il tecnico del lagato Clennino Vitabile. Alessia, oltre al talento, ha dimostrato serietà e responsabilità negli allenamenti e nella vita. Saprà certamente proseguire il suo cammino con grinta e determinazione. Il Panatron Club Chacaterme, presieduto da Giuseppe Recca, oltre ai brillanti risultati ottenuti, ha voluto appunto premiare la grande volontà dell'atleta inserita ormai a pieno titolo tra le protagoniste degli sport paralimpici italiani. Il premio Panatron Club Chacaterme 2023 è stato consegnato ad Alessia Friscia dal vicepresidente Santo Tirnetta e dai soci Pippo Simone Vullo, Tiziana Maniscalco, Leonardo Gerardi, Piero Lentini, Enzo Barbera, Marinella Riccio. Sport trasferta positiva per l'atleta saccense Elena Indelicato ai mondiali di arti marziali miste che si sono tenuti negli Emirati Arabi. Indelicato è stata convocata dalla federazione e ha gareggiato per conto della nazionale italiana. L'obiettivo adesso è poter partecipare ai prossimi campionati europei. Vediamo il servizio. Trasferta positiva e buone prestazioni per l'atleta saccense Elena Indelicato al campionato del mondo di MMA che si è tenuto ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi. Indelicato, tesserata per la legge Stim di Sciacca, ha preso parte al mondiale riservato agli atleti minorenni dopo aver conquistato il titolo italiano di specialità. Convocata dalla nazionale italiana, ha difeso la maglia azzurra ed è stata supportata dalla guida tecnica del maestro Giuseppe Butera. Elena Indelicato ha vinto e dominato il primo turno superando un'atleta della Palestina. Ai quarti di finale però si è dovuta arrendere ad un'atleta di casa degli Emirati Arabi Uniti, avversaria che poi conquisterà loro nella sua stessa categoria. Nonostante la sconfitta, ha disputato sicuramente un buon match, perdendo soltanto per decisione arbitrale. È rimasta quindi ai piedi del podio, pur restando la quarta atleta più forte al mondo nella sua categoria, nell'MMA. Una bellissima esperienza per l'atleta saccense, da cui ripartire in vista della prossima stagione agonistica. Molto soddisfatti i tecnici che l'hanno seguita all'angolo e che ne hanno apprezzato la crescita tecnica ed agonistica. Indelicato, round dopo round, si è dimostrata sempre più a suo agio, in gabbia, e ha portato soluzioni tecniche ai vari attacchi subiti, rispondendo colpo su colpo e attaccando a sua volta. Siamo già tornati in palestra, dichiara il tecnico Annalisa Labella, per prepararci per un nuovo anno in cui si prospetta un'altra stagione di impegni sportivi ad alta intensità. L'auspicio è che Eren Delicato sia riconfermata in nazionale, in vista del prossimo campionato europeo. E come sempre con lo sport chiude questa edizione del nostro telegiornale. Grazie di essere stati con noi, arrivederci.